Gentili telespettatori, buona giornata. Quello che dice Mario Giordano questa volta mi sembra realmente azzeccato. Ovviamente è la mia opinione, un'altra persona assolutamente può non condividere le mie parole. Io spesso ho criticato Mario Giordano, ma questa volta mi sento di dire che la penso esattamente come lui, credo che lui abbia realmente centrato il problema. Che cosa dice Mario Giordano? Beh, ci sono le polemiche sul 25 aprile. All'inizio della puntata, proprio del 25 aprile, il conduttore Giordano ha condannato nel suo editoriale l'ipocrisia della sinistra che tenta di accaparrarsi il diritto di parlare della liberazione. E questo è corretto. La liberazione è stata fatta da italiani. I comunisti che si sono adoperati per la liberazione, sul totale, erano pochi. Le formazioni per la liberazione c'erano partigiani, comunisti, c'erano socialisti, c'erano militari, carabinieri, militari della Repubblica Sociale, c'era di tutto. C'erano italiani, uomini, donne, ragazzi, anziani. C'erano di tutto. C'erano italiani, c'erano anche i comunisti. Ma voi come voi sapete, la storia la scrivo e chi vince. E allora è diventato che la liberazione è stata fatta da parte dei comunisti. Ma non è così. Ma non è un'opinione la mia, è storia. È storia. Provate a informarvi e vedrete che non vi sto raccontando la storia di Babbo Natale, non ne avrei nessuna motivazione. Voi lo sapete che quando io ho da dire e da fare qualche commento negativo, lo faccio. Non me ne frega niente di andare contro un esponente di destra o di sinistra. Secondo me è una roba sbagliata, ve la dico. Se è giusta, ve la dico, indipendentemente che l'abbia detta chiunque. Se è una persona che non mi piace, dice una cosa giusta, io vi dico ha detto una cosa giusta. Non vi dico ha detto una cosa sbagliata solo perché mi sta antipatica. Quindi, la prima cosa che dice Giordano Corretta è questa. La sinistra tenta di accaparrarsi il diritto di parlare e di manifestare il 25 settembre. Scusate, il 25 aprile. Il 25 aprile dà diversi decenni a un proprietario. La sinistra è la proprietaria del giorno della festa del 25 aprile. Ma la seconda cosa che dice, che è ancora la cosa per cui ho fatto questo video, è che Giordano dice questo. Se la liberazione fosse stata solo merito delle bandiere rosse, la storia sarebbe andata molto diversamente. Se a liberare l'Europa, sapete che sono arrivati da una parte gli alleati, dall'altra parte è arrivata l'Unione Sovietica, sono arrivati insieme a Berlino, chi è arrivato mezz'ora prima, chi è arrivato mezz'ora dopo, ma sono praticamente arrivati insieme. Se la liberazione dell'Europa, dell'Italia, l'Italia è stata liberata prima dai reparti di italiani che hanno liberato Napoli, gli alleati hanno trovato le città già liberate, gli italiani stessi, come vi dicevo prima, hanno liberato il paese. Ma se quella liberazione, come dice Giordano, fosse stata fatta solo dalle bandiere rosse, cioè dall'Unione Sovietica e dai suoi alleati, oggi la storia sarebbe molto diversa. Oggi l'Italia sarebbe sotto la sfera dell'Unione Sovietica, l'Europa sarebbe probabilmente quasi tutta. facente parte dell'Unione Sovietica. Sapete che negli anni 70 c'era un piano di invasione di mezza Europa militare da parte dell'Unione Sovietica. Infatti c'erano dei piani, Gladio, Legio, erano delle organizzazioni per guerriglia e controguerriglia, nel caso ormai era sicuro di un'invasione dell'Unione Sovietica. Quindi, come dice Giordano, se nella liberazione italiana ed europea ci fossero state solo bandiere rosse, oggi io non sarei qua liberamente a parlarvi e voi non sarete lì liberamente ad ascoltarmi e non ci sarebbe tutta quella libertà di andare in giro, di dire, di odiare questo e quell'altro. Ci sarebbe un vero pensiero unico, ma di quelli tosti. Lo vedete in giro per il mondo, cosa sono i regimi e le dittature comuniste. Quindi, caro Giordano, questa volta un applauso, perché se fossero state solo bandiere rosse, come ci vuol far credere la sinistra, che la liberazione è stata fatta dai comunisti, fazzoletto rosso, bandiere rosse, se fosse stato veramente così, oggi quelli che festeggiano il giorno della liberazione col bandierone rosso e il fazzoletto al collo rosso non avrebbero avuto le libertà che oggi hanno in Italia. Per fortuna che la liberazione in Italia e in Europa è avvenuto da una coalizione mondiale dove c'erano dentro paesi dittatoriali ma anche grandi paesi democratici. Perché se fossimo stati liberati solo dalle truppe rosse a quest'ora avremmo tutti passaporto russo. Qualcuno magari sarebbe stato contento ma una cosa è dirlo giocando così ma una cosa è poi essere dentro una realtà ben diversa. Oggi non avremmo commentato questo video non ci sarebbe stato Giordano in televisione ci sarebbero stati giornalisti di regime obbedendo ad ordini ben precisi non ci sarebbe stato nessun tipo di libertà altro che social network vado ad odiare l'influencer lo insulto direi proprio di no. Quindi quello che dice Giordano poi aggiunge quando c'è una maggioranza di destra o di centrodestra parte la resistenza contro il governo fascista sono anni che sentiamo dire le stesse cose che deve essere una festa condivisa che deve essere la memoria di tutti perché non è stata solo la liberazione delle bandiere rosse anche perché se fosse stata solo la liberazione delle bandiere rosse ci saremmo liberati da una dittatura ma saremmo caduti in un'altra dittatura. Eh sì saremmo passati da una dittatura di destra a una dittatura di sinistra e sinceramente non so dirvi quale delle due è peggio sarebbe una gara a chi è peggio ecco grazie a tutti e arrivederci